Mamma mia c'è, stai nervoso Cioè io mi sono scomentato Si, io ho detto ma chi è questo? Perché stavo attragato pure, cioè stavo attragato nell'angolo, è buio No, non mi ricordo Guarda, poi è morto come il piano Se vedevi spettatori a noi quando Da quando è che ci stavi seguendo alla fine? Eh, prodiamo Come abbiamo ucciso il team di Domo Ma a Domo l'abbiamo tribellato di proietti Anche quando stava morto Andiamo Ehm Andiamo qua Ridiciamo quelle, prendiamo una taglietta Vai, vai Tagliettina All'inizio John, siamo sopravvissuti a 4-5 team qua Si, abbiamo fatti 2 o 3 qua Johnny ma perché hai cancellato tutti degli amici? Eh perché tenevo troppe persone Mi andava pure lento gioco Faccio la cacauca Ho fatto tutta la polizia appunto qui immaginavo Oh, uno lo ha tirato in volo, bellissimo Che? E siamo Haki? Devo chiamarsi, ha un Haki Bevi l'Haki? Molto l'Haki, oh Dio Povero, ha un Haki Io entro e ho trovato un pistone Guarda, sei merda, non vengo più qua Per sogno taglia identificato Fuoco su quel bastardo Madonna è P90 Madonna ELECTRA Ho trovato ELECTRA GIOA 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 E' UNA METRA GIOA Ma come cazzo è? TV station è stata Andiamo a prendere l'elicot Il nemico è stato qui C'è il mercato qua avanti Andiamo al supermercato Siamo al supermercato Ho questo oppure l'altro dietro Però ci puoi andare avanti Cosa, come来 Aless bulloso zoom青 Uchtete la devo mettere la Ah, come che buono Dermelo sotto MITRAGLIETTA LOocalizzata io fantasma si anch'io sempre fisso no qua non era la prima la classe porca miseria ragazzi avvicinano quelli che si avvicinano la tagga io ho sbagliato questo non è mai inutile porca miseria il 725 c'ho anche le mp5 c'ho anche le mp5 però non è un mp5 da world diciamo il 725 proprio da bestemmia questa è la mia classe mutipè ma questo è tuttora mona vinta è munizio la munizio no quelli stanno sopra il tetto gli schifosi di merda dove cazzo sta no ho pingato la perché eccolo ecco non c'è chi chi ti ha sparato con un'arma indovina il 725 c'è chi ci pagherebbe altro no ho scaduto obiettivo parlito mancia c'è scaduto è vero ma lo devo riscaricare perché lo voglio provare stavo giocando a warzone poi la playstation che ho non è che ho una memoria incredibile c'è mai fa ma niente stiamo qua come i coglioni secondo me non cazzo no no qua è buono almeno ho 725 se ne stiamo qua oh io vado a lutarla rosso mi sono dato il cazzo rosso e fu così si si andiamo là magari trovo l'alba è consenziato un altro 725 qua dentro seguimento ottimo lavoro allora buono 3 minuti però oh bello l'autoresso sono munizioni se volete qua lasciateli a me lasciateli a me non ci arriverò mai prima di questo colpi di medio calibro qui ricotta abbandona è entrato suo fratello ecco perché torneo quest'oggi per ricotta colpi di medio calibro non ha dato il meglio oh io te lo giuro mo l'ammazzo eh oggi stava un po' dove cazzo stavo si stava giocando a cazzo di cane oggi stavamo proprio giocando a cazzo di cane stavo a fare la ricotta oggi ma la prima partita l'abbiamo restato vieni qua che ti prendi l'armi appena uccidiamo un team se ne va se ne va dove cazzo era andato non so gli dobbiamo sparare a questi si vai oh ce l'ho freddo craccato oh mio dio craccato a terra bello cos'è il mato comunque stavo sparando ci stiamo facendo scontare da mezza lobby comunque no no sì che non sparo io non ci spostano vabbè ma i rumori che si hittato veicolo neutralizzato raga hittato 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 no hittato no 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 così no oh eeeh vado a prendere una cazzo quando arriva un lancio non sto sparando nessuno oh arrivo un lancio che non mi prende c'è fa bene raga lasciate le munizioni a terra che magari servono per dove da averle le munizioni quelle che c'hai quelle che c'hai niente piccano non cazzo stascia vuole anche voi 8 munizioni per il pompa colpi per fucile a canna lì ha marcatto ma dove si pussa la cazzo non c'è l'rpg ma forse è meglio forse se vai al lancio no non è vero eh si non c'è ma niente stavano qua però c'è un bizon là ma è la puda ma è la puda ma è ma andato ma arriva il lancio eh si lo sto aspettando ma sto trovando a vinta 67 den oh sta qualcuno qua oh ma dove l'avevi già ucciso con ralp craccato ma the one shot ma dove stanno il raro si è scappato davanti dove stavano andate all'inizio stavano più avanti attenzione raga più avanti non me lo pinga però lancio di equipaggiamento alleato facciamo si uccidiamo questo si uccidiamola a questo la caccia fino alla morte questo tizio dove dove cazzo sta vabbè non ce l'ho crede è scappato ma ha fatto a scappare ma chi è questo cyber mi ha invitato un altro tizio che non conosco ma chi è c495 si mi ha invitato prima quello che vi ho detto prima l'avevi invitato anche a voi venga al mercato l'elicottero al mercato e il lancio io vado al lancio voi fate quello che vuole altrimenti non posso giocare ma infatti l'elicottero al lancio mi sa che andate e ti l'hanno preso ah va fanku cazzo nooo io c'erano le granate ci arrivano le granate là ma io lo spazio non so come cazzo ha fatto a prendermi è uscito un attimo è uscito un attimo da sopra ho buttato una a terra ho buttato una a terra caeva oh l'ho crackato l'ho crackato oh vicolo distrutto ma dove sta dove sta no sopra ma alcuni ma sul tetto alcuni stanno sopra al rosso alcuni sopra a questo raga scontro in corso due sopra a questo stanno preparati a combattere che facciamo proviamo provo a pusharli a terra quello sul rosso raga se mi atterrate uno di qua sopra se vinci questo scontro con gli in prima linea eh in realtà raga mi date i soldi per esso lui cazzo l'ho atterrato quello quello con la granata da dietro mi hai dato il scartetto te lo sei guadagnato ah mi ha dato una kill compagno finito nel gulag ti ha ucciso col tutto il tetto già uno l'ho atterrato ok ti mani in atto ti mani in atto sono salito col pompa guanna mi stava facendo scoppiglio di puttana venite a prendere le armi si si oh cazzo raga si sparano non so da dove ma sto eh da tv station mi sa se oh cazzo no no io non ho la classe non so se da tv station si da no raga non entro no raga non entro mi sembrava di latti qua giù qua giù raga ah qua giù cazzo è morto è a terra a terra ok perfetto no cazzo eh ma cosi è lì oh sul rosso mi sa raga sopra rosso su rosso si guarda qua grappolo mi ha buttato insomma mi devo prendere ancora il lancio io questo è qui guarda le scale sul rosso e stanno sopra si oh che palle raga mi stanno sparando di brutto mamma mia da giù al rosso da giù al rosso da qua giù più dal verde dal verde raga come non ho detto se riuscite perché mi stanno puntando di brutto oh sa chi è che cammino minchia non riesco ad uscire sta uno sotto di noi si 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 da l'altra parte sotto no sta virando a me ecco a terra grazie vieni vieni si aspetta se puoi rianima se puoi non so se c'è uno qua giù però eh bella posso venire dove state voi c'è un cielo ma dove sono morto io ok non c'è nessuno qui sotto ok noi risaliamo ma quello che ti è atterrato attenzione mi che ah raga dal verde ma vedi sto coglione che rimane prima che l'ho pingato dal verde no 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 in due secondi ho sceso a terra non temere ci sono io oh scappa ah scappa scappa vai vai scappa due fatti giove stanno fuori a cosa compagno nel gulag se sopravvivene può tornare in azione vale ma non due team comunque sei viva giù non morirà a me il volante via se ma io se passo da qui guarda che c'è il solito se c'è un elicottero lo vado a recuperare non c'è non c'è già se no andiamo a hospital a farci lo shakal guido io ce li ho i soldi ce li hai ti immagino che andava fuori safe e allora andiamo facciamo una taglia qualcos'altro magari muore qualcuno se la macchina non lagga ma che cazzo è il primo è tranquillo ce la conti ce la conti Sì, è per forza, sta allo sciacallo Questa senza niente Eh, ma sta proprio là la gente Ah, proprio là sta? Che cazzo? Si Che parte? Sta proprio là Vedo nessuno Vedi? Sta aspettando che va qualcuno Stava a far giù Vediamo se le case allora Cambio posizione Sì, vado qua dentro Spero qua mi sa che saranno pure le munizioni, se non sbaglio No, è aperto Io sto vedendo altre case, ok, 1.2 Ho 500 a trovare UAPI NEMICO IN VOLO Ce la facciamo raga, ce la facciamo Ce la facciamo? Sì Andiamo veloce Tisami i soldi, tisami i soldi Vai Eh, cazzo è qua Tra gli attrice leggera qui Quanti cazzo di mitraglioni stanno qua dentro Tra gli attrice leggera qui Riccate, dammi i soldi Sì, te li lancio dalla finestra No, 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 entro... Ok, dammi lanciameli dalla finestra Lanciameli dalla finestra Che le buttai? Cazzo Sono ricchi Eh, a questo Andiamo, dai, andiamo insieme Vedi che dentro sta un'arma L'avete presa l'arma? Io ce la due Ok, perfetto È stato uno davanti all'altro mercato Ok, go, c'è il ca Eh, entriamo dentro Entriamo dentro Eh, entriamo dentro Aspettate che arrivo L'antropò Qui c'è una mitraglietta Oh, cash, cash Cash Eh, qui dentro puzza Puzza tantissimo Ma no Mi che il mitraglione Se vuoi Sì, mi che vieni qua dentro Ti prendi due armi T'alluggi pure C'ho due otto Che dici? Compra le piastre Se mi dai duecento Mi che dammi duecento Mi che dammi duecento Mi che dammi duecento Mi posso dare cento io No, no, posso E venitemi insieme Qualcuno che viene a prendersi le altre cinque Andiamo in safe Andiamo in safe che intero lasciate a terra a chi serve adesso ti servono da me una sono io ne ho 7 da me una tieni si taglia un colpizone c'è un'altra c'è un'altra resa ragà vede colpi d'assalto si te li do io trovati 210 a luttare si anche io ti posso dare un altro star tieni che prende la fine mi se le andiamo più avanti non siamo dietro di nuovo insomma andiamo al verde ragazzi c'è te qui un altro o uno ci do la finestra acqua bella 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 no 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 vini qui dietro e sta il cecchino che ti mira ah l'ho visto va dietro va dietro attenzione attenzione ragazzi da dietro mi sono sparando da dietro ma non capisco dove cazzo mi sono sparando da no cazzo no c'è un altro qua movimento e qua da bella vedi sto coglione vedi sto coglione bello no c'è un altro aspetta vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua ok vai 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 ma vedi sto coglione o a me dove ha finito oh cazzo ma tu guarda si pezzi di merda ancora contatto contatto la tuta spaziale aveva colt no vi spavano no stai in cecchina molto bene a terra uno buono eccolo giù l'altro si è morto si 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 è buttato è morto si 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 è buttato si è un'altra di colpino pura puttana è un solito che questo potete restarmi si vado io vado io infatti si ma non si capisce nulla sto cazzo è aspirapolo lancio di equipaggiamento alleato davi il 400 tieni il 100 qua ricarica il 400 scusa vai 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 non ho muoce ma neanche ma che cazzo mi aveva mia ho visto che cazzo è successo oh è morto un mi hanno dato una kill si 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 poi ci sono confermata a posto aspetta raga che prendono le armi di questo andiamo verso il lancio scusa gio 7 e 7 gio eh oh quello è il torneo che ci gaccia oh caccio c'è uno qua a terra morto ah bello qua stavano movimento ci avete il sensore voi raga io no se non prendeva il lancio eh mica qua ci sono armi eh veniti a prendere la sacca veniti a prendere la sacca c'è il chilo c'è la sacca vieni qua mica la x il chilo io mi sto tenendo il bizon dall'inizio il bizon è buono eh ma lo so tenuto tu pensa che non ho preso io prendo un'altra la sacca nessuno la prende io ce l'ho 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 ok raga dove andiamo da sinistra o da destra sinistra e qua vediamo il lancio ok si si prendiamo fantasma che matta è io mi tengo le stun però Eh sì, no io non ho bisogno del lancio, ce li ho già tutti i due Ok ho preso Il suo primo fantasma, raga copritemi Aspetta che lo prendo pure io e lancio Pressione a quell'edificio all'altro che... Cambio posizione Come non detto O là, oppure dobbiamo andare sopra la colla... O sopra la montagna, uno Bersaglio marcato No, 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 è lontanissimo Ciao guagni, andiamo da sinistra, da sinistra Ok, ok, ok No, no, vabbè, lo stavo sparando così No, no, dico, andiamo da sinistra Hanno restato più avanti, andiamo nel rosso Andiamo nel rosso Mi condisci il suo, è stato super di noi All'ancio, 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 ragazzi All'ancio, all'ancio, ragazzi All'ancio, all'ancio, ragazzi All'ancio, all'ancio All'ancio, 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 all'ancio Contento questo? No! No, spavano adesso Sta uno qui dentro, ragazzi Ah, cecchino, cecchino a destra Continua così Hanno restato ancora Entrate dentro, entrate dentro Attenzione, attenzioni, ragazzi C'è che sparano da là Dovemmo entrare dentro, entrate dentro Entrate dentro Sì, è bravo Sopra, sopra, andiamo sopra Avete del gas in arrivo Madonna mia, ma che, oh, ma che cazzo è? Sì Andiamo tutti nella zona Bella Oh, attenzione, io vado un copro dietro Ancora non è solo qualcuno Aspettiamo, con calma Sì, sì C'è un ping, un ping, l'ho visto Bella Ma chi è questo? Da dietro, da dietro Sta lì Dietro al camion Oh, cazzo Oh, cazzo Ho eliminato un altro, io Bella C'è un altro ancora Raga, attenzione Morta, è morta, è morta È quello di prima No, no, sta ancora dentro la cazzo Restano nove bersagli, forza Raga, colpi, colpi d'assalto Tieni, tieni Stai dentro uno Raga, dobbiamo andare Ma sta uno qua dentro Vai, vai, vai Qua dentro di noi Qua, qua Oh, cazzo Eh, crepa Morto, morto No, ma sta là Hai rianimato Parezzato, guarda Ah, ok, ok C'è incredibile, buona Avete del gas Sì, in arrivo Raga, dobbiamo andare in safe No, su due Diriggiamoci verso la zona sicura Sul blu, sul blu, sì Ok, sul due Oh, sta uno sopra di noi Raga, venite giù Mitraglietta, qui Ok Siamo tutti insieme, siamo tutti insieme Sì, sì, intanto siamo un'unica squadra a quattro Matematicamente No, sistema troppo Possiamo salire pure di qua volendo Di nuovo Però Per me possiamo andare anche in giù Ragazzi, 4 1, 1, 2 Per forza Hanno visto Raga, ma perché non rimaniamo giù? Sentite a me, rimaniamo giù Ho visto, ho visto, ho visto È una tenda, ho visto Vabbè, questo poiché scende C'è un cazzo Sì, che c'è la massa Eccolo Gassi in movimento Attenzione adesso Sì, sì, sì Ma ho sbagliato il trofe Io sulla macchina lo dovevo mettere No, ragazzi, abbiamo la safe Dalla parte C'è qui un ingresso Magna, c'è qui un ingresso Cambio posizione No, no, non c'ho Eh, c'è uno sul tetto qui Mi sa In movimento Sì Sparatelo, ragazzi Sparatelo Che mi sto sparando Spara a loro, non a me Andiamo, andiamo, andiamo Sì, sì, sì Eh, ma a me mi hanno toccato, ragazzi Vabbè, fa niente Continuate Gassi in arrivo Postamento della zona sicura Ne rimangono 5 Dove stava? Eh, sopra il tetto ancora Sopra il tetto Io sono, che merco, cazzo Sta scendendo, sta scendendo Sto scendendo Morto la terra Sì, grande Sì, grande, grandissimi Grande, grande Buona partita Bella partita Bella partita Macellone Dai, però io mi sono sacrificato alla fine Struzzo Mi ho fatto la maschera Dietro, dietro A fare quello di sopra il tetto Per non farmi crossare E poi sono morto io È durata un'ora sta partita Oh, è vero Mamma mia, guarda Gli operatori cambiano anche dalla privata Si, si cambiano Un po' con meno diverso Ma che è? Vedete i danni Vedete i danni Guardate i danni Guardate i danni Guarda, i danni Tridono lo tremone a vento Tridono lo tremone a vento Tridono lo tremone a vento Aspetta Vado a uscire Eccolo, tremone a vento Guarda i danni Andava giocato, scusami Cazzo vuoi? Sì Grazie.